Mi stanno caricando, mi stanno caricando il portato Grazie 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 La soluzione è stata quella che ci si augurava fin da subito perché da subito abbiamo detto che merce, armi dal porto di Genova non dovevano essere imbarcate e non dovevano partire Per tutto quello che è stato, per come nasce questa situazione per come si muove da Leavra arrivare in Italia a Genova non la vorrei chiamare una vittoria, non vorrei andare oltre però direi che è il segnale forte quello che arriva da una città non soltanto dai portuali perché qua stamattina davanti al barco non c'erano solo i portuali non c'erano